Manola Shake è un ristorante stile americano che si trova a Caorle. Oltre a fare degli ottimi hamburger e hot dog, fa anche dei tacos messicani favolosi con materie prime di qualità e provenienti direttamente dall'America. Per i più golosi fanno anche degli ottimi milkshake, da provare anche le torte American style tipo la Red Velvet, l'Oreo oppure l'Apple Pie. Per gli amanti delle birre hanno un'ottima selezione come per esempio la Goose di Chicago, davvero favolosa. Andare da Manola Shake è come sentirsi in un vero locale americano degli anni 60 e 70, ricordando i gogliardici anni Happy Days. Lo stile del locale infatti vi riporterà indietro nel tempo, bello e accogliente il giardino estivo illuminato con luci calde che danno quel senso di festa. Inoltre il venerdì fanno serata live music con le migliori band musicali. Per i più piccini inoltre hanno una bella area bimbi attrezzata con giochi e scivoli. Consigliato!